Grazie a Dio, spero che questa volta sia la volta giusta e che possa finalmente stare più volte in campo per aiutare quest'Inter che ha tanto bisogno. Anche perché quest'Inter non riesce più a vincere? Abbiamo avuto tanti problemi, siamo stati tanti giocatori infortunati, però lo più importante è che come gruppo siamo ritrovando, ce l'abbiamo da pensare in Champions League che è molto importante. Cercano anche con il laser, guarda. Sì, sì. Senti, stai bene, ti senti bene? Mi sento bene. Hai scherzato persino con Sartore e Turam? Sì, sono degli amici, a parte che è una grande partita, stava in gioco la Coppa Italia, però c'è anche tempo quando parla lontana di scherzare. Senti, per chiudere, derby ci sarai io credo e poi Manchester United, quest'Inter si vuole aggrappare anche a te? Noi soprattutto pensiamo alla partita contro il Manchester, vogliamo lavorare tutta la settimana. Ci sei tu, eh? Spero, io spero di sì, mi preparo questa settimana, siccome ho visto bene stasera, spero di essere qui. Ti lascio se no prendi l'influenza, non vorrei avere sulla coscienza anche l'influenza. Grazie Ronaldo. Grazie Ronaldo. Grazie. 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 Grazie.